e ciao a tutti ragazzi scusate se non ci sto in questo periodo sto molto occupato con lo studio vi ringrazio a tutti quanti davvero con il cuore chi mi segue su youtube stiamo continuando a salire mi raccomando continuiamo così allora oggi grande scontro tra i due power bank finalmente l'ho messo al confronto per farvi scegliere quale acquistare prima di andare al video volevo dirvi che questo power bank ha un'autonomia 10.000 mAh compatto piccolino ottimo da portare in giro invece questo grande sempre una batteria 10.000 mAh cosa cambia tra i due sempre che qua questo quadro più veloce ha una ricarica anche da 22 watt virgola 5 per l'iphone 18 watt per i samsung e 5 watt per i dispositivi come cuffiette o altro tipo di gadget quale consiglio tra i due in base alle vostre esigenze potete avere una power bank che ricarica il vostro telefono molto velocemente sicuramente vi consiglio questo qua piccolino compatto si può tenere in tasca molto comodamente trovate su amazon a un prezzo di 20 euro stesso prezzo del power bank più grande sempre da 10.000 mAh allora io mi sto trovando molto bene sono passate due settimane e quando esco in giro ricarica molto velocemente il telefono può farmi addirittura due ricariche perché ha una batteria che supera i 10.000 mAh ora vi starete chiedendo quale sceglie tra i due sempre lo stesso prezzo usb tipo c per entrambe con due porte di entrata potete caricare due telefoni contemporaneamente e con usb tipo c in invece è la stessa cosa anche per il piccolino rispetto al grande il piccolino a un tasto che sulla destra per accenderlo e fa vedere i display e due comunque supportano lo schermo lcd la possibilità di vedere la percentuale del power bank quando è scarico quando è carico è veramente una funzione molto utile marche diverse marca e un contro marca char must infatti sono due ottime marche sicuramente di consiglio di acquistarli entrambi invece su quello più grande abbiamo il tasto a sinistra io mi trovo più con il tasto a sinistra rispetto a quello destra non so il motivo però comunque mi trovo meglio con questo allora io quando questo qua aveva una capienza di 10.000 mAh sapete quando con il tempo per esempio utilizzate molti power bank sicuramente con i telefoni non hanno più l'autonomia che avevano prima infatti questa due anni e comunque quando l'ho comprata all'inizio mi ricarica pure questo qua abbastanza veloce il telefono e anche la ricarica rapida per entrambi tutte e due la usb tipo c allora in conclusione quale acquistare allora ragazzi in base alle vostre esigenze stiamato in power bank piccolino compatto schermo display lcd sicuramente ce ne sono anche sui 30 40 euro anche con ricarica wireless che significa appoggiare il telefono sopra e si ricarica direttamente il telefono senza fili invece questo qua è solamente con il filo e abbiamo un usb tipo c schermo molto grande compatto piccolo abbastanza bene ve lo consiglio di acquistarlo se invece amate un power bank grande però molto scomodo in tasca vi consiglio più questo qua invece se amate un power bank con una buona autonomia una ricarica rapida vi consiglio questo alla fine il mio consiglio in assoluto va sul piccolino perché piccolino è molto più compatto più moderno ha un display più grande e sicuramente vi consiglio di acquistarlo ragazzi ci saranno altri video altri vlog devo ancora mettere la community e sicuramente uscirà anche quella mi raccomando continuate a sostenermi lasciate like condividete i miei video e ragazzi ci vediamo un prossimo video su youtube ciao ragazzi ragazzi prima di andare mi sono scoperto di dirvi che potrei appoggiare anche questo power bank dentro al telefono sopra vicino al telefono con questo tipo di gadget che sta dietro che è molto anche più comodo rispetto al power bank più grande che non ce l'ha io sto utilizzando molto questo questo lo sto caricando pochissimo se volete abbiamo ultima soluzione e ora veramente possiamo concludere questo video a me ne si spera a parte gli scherzi ah un'altra cosa prima di andare vi ricordo anche che se volete napoli ci sta una mostra di massimo troisi per chi conosce massimo troisi chi lo vuole conoscere fino al 25 luglio non vi fate perdere questa occasione dalle 10 del mattino fino alle 7 7 e mezza di sera comunque con ora con questa veramente tutto ci vediamo in un prossimo video ciao ragazzi